L'informazione di valore sul canale 18. Questa è Esperia TV. Un patrimonio da 124 milioni di euro è stato confiscato agli imprenditori bagalari tenuti vicini alla cosca Piro Malli. Ci sono fabbricati terreni e contanti. Un milione di euro di danno erariale, amministratori e tecnici comunali di Paola sotto osservazione da parte della Corte dei Conti. Indagine sul sistema idrico. La città di Crotone intitolerà una strada al medico imprenditore Massimo Marrelli venuto a mancare il 27 ottobre 2018, approvata mozione in Consiglio Comunale. Ora c'è anche il via libera del Tribunale Amministrativo Regionale. Il Sant'Anna Hospital può tornare all'operatività così come era stato prima dello stop. Dimenticare mai nel giorno del ricordo dell'olocausto nazista alla scuola media Anna Frank di Crotone offre il proprio contributo con un'esibizione corale. Benvenuti dunque al primo appuntamento col Tg regionale di Esperia TV. Subito in apertura la Guardia di Finanza ha confiscato beni per un valore di 124 milioni di euro riconducibili alla cosca Piro Malli dell'Andrangheta. Il provvedimento è stato seguito dal comando provinciale di Reggio Calabria delle Fiamme Gialle e dallo Scico. Vediamo. Sono gli imprenditori Bagalà i destinatari del provvedimento di confisca dei beni del valore di 124 milioni di euro emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria sul richiesta del procuratore Giovanni Bombardieri, dell'aggiunto Gaetano Paci e del PM Gianluca Gelso. Si tratta di Luigi, Francesco, Giuseppe e Francesco Bagalà. Tutti e quattro, secondo quanto riferisce la Guardia di Finanza del comando provinciale di Reggio Calabria e dello Scico, sono indiziati di intraneità alla cosca Piro Malli di Gioia Tauro. Il nome dei Bagalà emerge dalle indagini svolte nell'ambito delle operazioni Ceralacca, Convertazione, Martingala e Waterfront. Secondo gli investigatori, nei loro confronti è stata accertata la sussistenza di una significativa sproporzione tra il profilo reddituale e quello patrimoniale del nucleo familiare. I beni confiscati sono quattro società di capitali e relativo patrimonio aziendale, un'impresa individuale con patrimonio aziendale, quote societarie relative a sei società di capitali, 67 fabbricati, 91 terreni, 7 autoveicoli, 20 rapporti bancari assicurativi, 4 orologi di pregio e denaro contante. Nel 2018, su proposta della direzione distrettuale antimafia, il Tribunale aveva disposto il sequestro, oggi confermato, con la confisca del patrimonio dei Bagalà, per i quali è stata applicata anche la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per tre anni. Ci sarebbe un danno erariale da un milione di euro per alcune irregolarità nella gestione del servizio idrico nel Comune di Paola? Un danno erariale di oltre un milione di euro per irregolarità riconducibili alla gestione del servizio idrico integrato è stato notificato dai finanzieri del Comando Provinciale di Cosenza a 17 tra assessori, dirigenti e tecnici della precedente e attuale amministrazione del Comune di Paola. Il provvedimento riguarda la verifica e l'approfondimento delle modalità di gestione del servizio idrico integrato comunale e il rispetto degli accordi contrattuali tra il Comune e le società affidatarie. Dalle indagini sarebbe emerso un consolidato sistema di irregolare affidamenti temporanei attraverso determinazioni mensili dei responsabili del settore lavori pubblici e appalti succedutesi nel tempo su input dell'amministrazione comunale protempore. Gli addebiti contestati, secondo quanto emerso dalle indagini, riguardano affidamenti assegnati in assenza di qualsivoglia forma di comparazione con ditte e società operanti nel settore di fatti dall'acquisizione di varie offerte di gestione del servizio idrico si è avuto modo di determinare un canone mensile medio risultato di gran lungo inferiore rispetto a quello corrisposto alle due società affidatarie del servizio le quali, nel rispettivo periodo di affidamento, hanno di fatto operato in regime monopolistico Dagli accertamenti sarebbe emerso che è stato cagionato un grave pregiudizio in termini di maggiori costi sostenuti legittimamente dal Comune di Paola con il verificarsi di ingiustificati e sborsi scaturenti da compensazioni per lavori inesistenti e per prestazioni regolari ascrivibili ai membri delle due giunte e ai tecnici responsabili del servizio che hanno amministrato il Comune di Paola dal 2016 al 2020. I militari della Compagnia di Serra San Bruno, Compagnia dei Carabinieri hanno scovato il latitante Giovanni Emanuele 33 anni resosi irreperibili nel novembre dello scorso anno all'ordine di carcerazione messo dalla Procura della Repubblica di Vibo Valencia dovendo espiare una pena detentiva di anni 7 e 8 mesi di reclusione per il reato di spaccio e detenzione di sostanza stupefacente nell'ambito dell'operazione di pulizia convenzionalmente denominata GOST. Il latitante è stato individuato in un'abitazione disabitata nel centro storico di Gerocarn nella quale aveva installato un artigianale sistema di video sorveglianza al fine di monitorare movimenti sospetti all'esterno dell'immobile. Lo stesso ha tentato di darsi alla fuga ma dopo un lungo inseguimento è stato bloccato. Nell'immediatezza inoltre è giunto sul posto anche il suo fratello Emanuele Salvatore il quale al fine di agevolare la fuga del proprio congiunto si è scagliato contro i carabinieri. Anche quest'ultimo però è stato prontamente immobilizzato e tratto in arresto per esistenza pubblico ufficiale e per la violazione delle prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale alla quale è stato sottoposto. È partito l'iter per intitolare una via al compianto dottor Massimo Marrelli, fondatore del nostro gruppo. Venuto a mancare il 27 ottobre del 2018, ieri sera all'unanimità il Consiglio Comunale di Crotone ha approvato. Vediamo. Il Consiglio Comunale di Crotone all'unanimità ha dato mandato alla Giunta Comunale di variare la toponomastica cittadina, intitolando una delle arterie viarie più importanti del quadrante sud al medico e imprenditore Massimo Marrelli, tragicamente scomparso il 27 ottobre del 2018. Via Gioacchino da Fiore, dall'intersezione con Viale Giovanni Paolo II, alla rotatoria di piazza Beato Gerardo Sasso, porterà il nome di Massimo Marrelli. L'approvazione della delibera consigliare è avvenuta dopo un sincero e commovente dibattito in cui è stata ricordata la figura umana, professionale e imprenditoriale. Io ho immaginato una scena, quando mi è stata proposta questa intitolazione di una strada, ho immaginato la scena del dottore Marrelli che era insieme ai suoi lavoratori. Questa non era una mozione politica, di interesse, di parte, ma è un riconoscimento comunque un imprenditore di Grotone che ha fatto tanto. Io non ho avuto modo di conoscere direttamente il dottore Marrelli, però i segni tangibili della sua presenza sul territorio ci stanno. Marrelli ospita alla Calabro Dental, anche nel mondo della televisione. Credo che Grotone abbia bisogno di esempi, abbia bisogno di punti di riferimento e il dottore Marrelli lo è stato e quello che ha lasciato sarà un riferimento per la nostra città. Quindi doveroso e fa piacere che tutti quanti insieme abbiamo condiviso l'intitolazione della strada. Di fronte a una questione del genere, di fronte a un riconoscimento così importante, non credo che ci possano essere divisioni. La figura di Massimo penso che è stata una figura importante, oltre che un amico, oltre che un grande imprenditore, un grande professionista, quindi è giusto che a Massimo vada data la giusta riconoscenza. Lei diceva un atto dovuto, un atto di cuore. Sì, soprattutto un atto veramente fatto col cuore, quello di sposare l'intitolazione della strada del dottor Massimo Marrelli. Abbiamo avuto il piacere e l'onore di poter tributare a un uomo, a una persona che sicuramente tanto ha fatto per questa nostra città, con il suo esempio di medico, di medico che ha sempre voluto continuare a fare il medico. Perché comunque, ricordiamo, Massimo Marrelli è stato innanzitutto un bravo medico e ha voluto continuare a fare il medico fino all'ultimo giorno della sua vita. Il consigliere Andrea Devona era legato anche per motivi professionali al compianto dottor Marrelli? Sì, ero molto legato al dottor Marrelli e nel periodo in cui siamo stati a stretto contatto ho potuto testare con mano quelle che erano le sue qualità umane, professionali ed imprenditoriali e pertanto ho ritenuto necessario anche nella vecchia amministrazione portare avanti quello che era l'intitolazione di una via a lui dedicata. Io l'ho ricordato nella sua figura di imprenditoriale, è capace di diversificare nelle sue attività di investimento nel campo della sanità con risultati sotto gli occhi di tutti, è capace di fare anche cose diverse, tanto per intenderci così come nel settore dell'agricoltura e in altri tipi di attività come la comunicazione. E oggi la dimostrazione di questo voto, tutti i presenti hanno votato all'unanimità, questo dimostra l'importanza che si è voluta riconoscere alla persona e all'uomo Massimo Marrelli. Dopo l'approvazione della variazione della toponomastica da parte della giunta comunale e la conseguente auspicabile autorizzazione della prefettura, un tratto di via Gioacchino da Fiore cambierà nome, Viale Massimo Marrelli Crotone. L'arteria viaria che passa davanti alla struttura sanitaria che il medico imprenditore ha voluto che non fosse cancellata per sempre, che tornasse ad essere quello straordinario patrimonio di professionisti, tecnologia e umanità di cui oggi nuovamente continua ad andare fiera la comunità crotonese. Lui non era una persona che guardava esclusivamente il suo lavoro, perché questo io lo posso testimoniare. Lui si è interessato delle battaglie che avvenivano a Crotone. Parliamo di un uomo a tutto tondo e quindi è giusto che noi lo ricordiamo. Le persone così vanno ricordate, quelle che si sono impegnate sotto tutti, in tutti i campi, sia della propria professione che nel sociale. Il Sant'Anno Hospital di Catanzaro deve tornare ad operare per conto del Servizio Sanitario Nazionale. Questa è la decisione del TAR della Calabria. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha deciso per la sospensiva, cogliendo le tesi difensive della clinica catanzarese, presentate dall'Avvocato Alfredo Gualtieri. Sospensiva che chiude settimane di alta tensione dopo l'interruzione delle prestazioni prima di Natale con i dipendenti che hanno inscenato duri momenti di protesta, arrivando ad occupare la sede dell'Asp e perfino a bloccare il Ponte Morandi. Nelle motivazioni della sospensiva, il TAR avvise il pericolo di danno grave irreparabile nell'impossibilità per la struttura di erogare prestazioni per conto del Servizio Sanitario. Sono stati consegnati questa mattina ai 64 istituti scolastici della provincia di Catanzaro e i test rapidi che verranno utilizzati per verificare i contagi da Covid-19. Antonio Capria ci dice tutto. È partita questa mattina la consegna dei tamponi antigenici rapidi e dei dispositivi di protezione individuale da parte dell'azienda sanitaria provinciale nei 64 istituti scolastici di Catanzaro e provincia. I test vengono affidati agli infermieri in servizio negli istituti per aumentare la tempestività nell'isolamento di eventuali soggetti positivi al Covid e nel tracciamento dei contatti più stretti. L'infermieri scolastico è il punto filtro tra l'azienda sanitaria e l'istituto scolastico. È quella persona che prontamente può intervenire nella gestione del bambino, dello studente qualora accusi un malore ed è riconducibile un'esposizione da Covid ma nello stesso tempo per noi diventa il punto filtro per comunicare con l'istituto scolastico e migliorare ancora di più quella che è l'attività di prevenzione dell'azienda sanitaria. A ritirare nella sede della protezione civile regionale il carico di 6.400 test rapidi oltre a tute, mascherine e geligianizzanti i militari del reggimento Aves Sirio di Lamezia Terme al comando del colonnello Fabio Bianchi prima consegna all'istituto comprensivo Patari Rodari di Catanzaro alla presenza della dirigente scolastica Anna Rotelle del sindaco Sergio Abramo. Credo che uno screening veloce nel momento in cui ci sia un caso positivo in una scuola sia importantissimo farlo anche perché da lunedì iniziano anche le superiori e vedremo se funzionerà il sistema dei trasporti speriamo non ci siano contagi superiori a quelli che abbiamo oggi e quindi dobbiamo monitorare la situazione e le scuole per noi sono importantissime per quanto riguarda la vicenda del Covid quindi stiamo cercando di stare anche dietro alla protezione civile comunque l'esercito ha fatto un ottimo lavoro perché ha formato anche le infermieri che ci sono state mandate dalle ASP continueranno a fare i tamponi alla tensostruttura che c'è a Catanzaro Sala e soprattutto ci aiuteranno a distribuire il materiale nelle scuole della provincia di Catanzaro La protezione civile è intervenuta nelle zone maggiormente interessate dagli eventi idrogeologici che hanno interessato la Calabria e in particolar modo la provincia di Cosenza per quanto riguarda la frana di rota greca dove una colata di fango ha investito diverse costruzioni la protezione civile regionale è stata impegnata per rimuovere detriti e fango all'interno delle abitazioni colpite anche in questo caso hanno supportato le azioni della protezione civile alcune associazioni di volontariato La popolazione di Cassano sarà in grado di affrontare questo periodo difficile lo dice l'assessore regionale al welfare Gianluca Gallo in merito all'istituzione della zona rossa nel comune del Cosentino Il comune di Cassano all'Oionio da ieri è divenuto zona rossa dopo la registrazione di un numero elevato di nuovi positivi il sindaco Gianni Papasso decide quindi di chiudere le scuole di ogni ordine grado e i luoghi di culto fino al 15 febbraio 2021 intanto l'assessore regionale Gianluca Gallo dice la popolazione di Cassano saprà vincere anche questa battaglia La dichiarazione di zona rossa per Cassano è una notizia triste è una notizia dolorosa per me che da Cassano ho origine io sono convinto che la popolazione di Cassano alla quale sono vicino, che è una popolazione abituata a soffrire saprà vincere anche questa battaglia l'ordinanza del sindaco è un'ordinanza certamente non presa a cuor leggero ma è un'ordinanza che spero possa essere presto revocata perché il numero dei contagi possa diminuire sono convinto che Cassano come sempre saprà vincere anche questa battaglia Intanto ieri si sono registrati altri 24 positivi che portano il numero a 174 i ricoverati sono 4, i guariti 231 i deceduti 9 dall'inizio della pandemia ultima, un ospite della Casa Serena dove qualche giorno fa su 33 anziani 23 erano risultati positivi al tampone rapido da ricordare che giovedì scorso 30 ospiti della struttura e 21 operatori erano stati vaccinati con la prima dose è stato seguito questa mattina da personale della polizia locale di Catanzaro guidato dal colonnello Salvatore Tarantino un provvedimento di sequesso e sgombero di un'abitazione Aterp occupata abusivamente in via Lei Sonzo nella zona sud di Catanzaro il provvedimento è stato disposto dal procuratore aggiunto della Repubblica di Catanzaro Giancarlo Novelli alle operazioni ha preso parte personale della questura di Catanzaro dei servizi sociali del comune e dell'Aterp le operazioni si sono svolte senza particolari tensioni per ogni eventualità era stato predisposto un servizio d'ordine pubblico con uomini e mezzi di polizia, carabinieri e guardia di finanza attivare un polo didattico universitario a Crotone la proposta lanciata dall'associazione Io Resto un polo didattico legato alle caratteristiche che è il territorio crotonese ricco di cultura è sicuramente un volano forse l'ultimo quello che potrebbe rilanciare l'economia intera del nostro territorio parte dall'associazione Io Resto la proposta di aprire un polo universitario a Crotone nei giorni scorsi è stato Giovanni Pitingolo a prendere carta e penna e a inviare la richiesta a rettore dell'Università della Calabria per richiedere un incontro la missiva è stata condivisa da 40 associazioni, cooperative, enti un'idea avanzata per avviare un partenariato tra università, società civile e istituzioni per la promozione dello sviluppo umano soprattutto rivolto ai giovani e per promuovere processi virtuosi di crescita socio-economica e culturale Abbiamo chiesto al rettore dell'Università della Calabria di poter considerare Crotone quale sede per l'apertura di un polo distaccato questo secondo un nuovo concetto di università che è cambiato nel corso degli anni un'università civica proprio dove la società civile si rende protagonista come struttura di interfaccia tra le istituzioni, il comune e la stessa università Se fosse funzionante un polo didattico universitario in città i crotonesi potrebbero studiare il loco Quello che possa far dire a tutti i giovani di poter rimanere nella propria città di poter continuare i propri studi nella propria terra e attrarre anche valori ed esperienze internazionali qui su Crotone così come è accaduto a noi dell'Associazione di Oresto che siamo in contatto e collaboriamo con l'Università di Coventri grazie al professor Fabio Carbone che insegna lì è ambasciatore della pace nel mondo attraverso il turismo collaboriamo con la nostra associazione anche con l'Unical abbiamo parlato a dicembre di turismo delle radici con molti professori c'è il professore Vito Teti che fa parte anche del socio onorario della nostra associazione e per ultimo anche l'Università di Portogallo con Lisbona dove quest'estate ospiteremo Crotone ospiterà grazie all'Associazione di Oresto un Erasmus e quindi studenti universitari verranno anche a Crotone per conoscere la nostra città e la nostra cultura Che tempo farà nelle prossime ore? ce lo spiegano gli esperti di trebimeteo.com Amici trebimeteo bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di giovedì che vedrà un temporaneo aumento della pressione atmosferica sul Mediterraneo occidentale e sull'Italia quindi giornata discreta in gran parte del nostro paese controlliamo infatti la nuvolosità prevista dalle nostre parti ancora qualche residuo a nuvolamento sarà presente nelle estreme regioni meridionali ma soprattutto a inizio giornata è il rapido allontanamento per il resto non mancheranno ampie schienite ma col passare delle ore tornerà a farsi vedere qualche velatura al nord e sulle regioni tirreniche come precipitazioni però poco da segnalare qualche fiocco di neve sulle cime di confine per alcuni sistemi nuvorosi che transitano sull'Europa centrale ma per il resto appunto non sono previste precipitazioni significative quindi ci attendo un giovedì nel complesso discreto in gran parte d'Italia con ampie zone di sereno da nord a sud qualche goccione di pioggia abbiamo voluto indicarla tra l'estremo Levante Ligure e l'Alta Toscana ma fenomeni isolati e poi dicevamo qualche fiocco di neve sulle cime alpine di confine per il resto ampie schienite ripeto e temperature in leggero aumento per sapere comunque nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo Oggi 27 gennaio è il giorno della memoria per commemorare le vittime dell'Olocausto per l'occasione il coro polifonico Anna Frank dell'Istituto Comprensivo Rosmini di Crotone diretto da Maria Fontana Ardito ha realizzato un video il coro è diretto dalla professoressa Luisa Flocca vi lasciamo con questo video la nostra informazione tornerà alle 20.30 tra poco Salvatore Audia condurrà la trasmissione DOC denominazione di origine calabrese arrivederci salvatore salvatore Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì.